Intro Ciao Vets, benvenuti in un'episodio sui TV Games E oggi torniamo su Minecraft Hardcore Allora, off camera ho fatto questo campetto schifoso Però mi sono accorto che manca l'acqua E senza acqua un campo non vive Però per fortuna sono riuscito durante la notte che è passata A prendere un po' di bone meal E forse riesco a fare qualcosa Assolutamente un cazzo Quindi sono felicissimo Però abbiamo un grano, dai, non è male E in più ho perso anche un cuore e mezzo Quindi che felice che sono E non ho legna Oh merda, vabbè In questo bisogno devo andare a esplorare assolutamente Quindi prendiamo le coordinate della casa Non corriamo assolutamente E devo cercare pecore, mucche, cibo e cose varie E sarà un bel problema Tanto mi porto via tutto Che tanto se dovessi morire è finita la serie Quindi chi se ne cula Allora mi servono assolutamente le pecore Almeno per passarle notti E cibo Penso che sia primario il cibo Magari anche una zona senza neve Perché essenzialmente voglio una zona senza neve Ma non c'è un cazzo di animale in questo mondo Non ci sono gli animali Io sto perdendo vita Trovato le mucche Ho trovato le mucche E le mucche significa cibo E cibo significa viviamo ancora un episodio Essenzialmente Quindi Wow Che merda il ghiaccio così Devono fixare questa cosa Però c'è dell'acqua Però mi serve il ferro Quindi è inutile che guarda l'acqua Però ci sono le mucche E le mucche significa anche armatura È vero Sì Tra virgolette Dammi qua Funghi Buoni Però solo quelli rossi Non servono assolutamente a niente E ho sentito un'altra mucca Ciao mucca Come va? Male Perché mori adesso brutta Figlia di puttana Comunque volevo dire Così a caso Continuando il discorso Del scorso episodio Cioè Dell'andamento Del Del canale Perché non mi vengono le parole oggi? Comunque sto pre-registrando Questo episodio Quindi Possiamo chiamare la seconda parte Uh Che bello Un maiale Però io voglio le pecore Ripeto Così a caso Voglio le pecore Riprendendo il discorso D'altra volta Volevo parlarvi anche Di due serie Quasi principali Del canale Che voglio portare avanti Perché seguite E' abbastanza Popolari Una tra queste E' Yu-Gi-Oh Yu-Gi-Oh E' seguita Tipo dal mondo intero Non si sa perché Io non parlo Inglese Quindi Non mi capisce nessuno Però tutti guardano i miei video Non lo so Anche inglesi Francesi Spagnoli Giapponesi Cinesi Mi arriva di tutto Nella chat Il fatto divertente E' questo Essenzialmente Che è una serie Che è difficilissima Da registrare Voi non potete capire Quanto io ci metta A registrare una serie Del genere Perché Voi direte Boh ma te registri 20 minuti E li carichi 20 minuti Senza editare Tanto Al massimo tagli Le prime parti Sì L'unico problema Della serie Yu-Gi-Oh E' che Oltre a durare 20 minuti Un duello Parliamo così Se io lo perdo Devo passare Altri 20 minuti A fare lo stesso duello Magari lo riperdo Altri 20 minuti E' già passata un'ora E quindi Perdo tantissimo tempo La E in più Avendo Registrato L'iPad Che ha Allo schermo 4 terzi Quindi Mi fa le barre nere Mi tocca Mettere lo sfondo Quello sfumato Per evitare Di vedere Tutto schifoso Lo voglio vedere Qua dentro Se c'è Un po' di ferro Perché Non c'è mai Quello che mi serve Però Mi serve assolutamente Uh che culo Del legno Per fare Una crafting table No Devo mangiare Assolutamente Devo mangiare Assolutamente E Mettiamo anche Una torcia Così diciamo Che siamo passati E quindi Qual era il problema Essenziale Che Qua teniamoci vicini Che È una serie Che devo portare avanti Quando ho tempo E ultimamente Tempo Non ne ho Sia per la scuola Perché quest'anno Ho la maturità Ma penso che lo sapete Ormai con tutte le cose Che ho detto E anche Per il semplice fatto Che non trovo più Dove cazzo L'ho messo Wow Ho già perso Il mio Nascondiglio Ah è qua Meglio che mi scrivo Anche le coordinate Di sto cosa Perché sicuramente Non ci ritornerò mai Essenzialmente Mangia 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 Tantissimo E quindi Essenzialmente è una serie Troppo Drunga Da renderizzare E una Una delle parti Più difficili Da renderizzare Anche Per il fatto Del Degli effetti Dei tagli E tutto È lo stesso Spacchettamento Spacchettamento Posso dirvi che Per fare il video Senza Ci metto Ci metto Un'ora Per editare Tagliare Prendere i pezzi Metteli a posto Anzi forse Un'ora e mezza Due E in più Il mio computer Non è talmente potente Da renderizzare Contemporalmente L'effetto Della canzone L'effetto Di questo L'effetto Dell'altro L'effetto Di quell'altro Che Per fare renderizzare Un video Di quello Va dalla mezz'ora A un'ora Anche perché Sono abbastanza lunghi Anche essendo Video lunghi Tra virgolette Tolgono un po' Alle persone Diciamo che lo vedono Fino a un tot E poi si stufano Perché sono troppo lunghi Però ovviamente È una serie di Potenza del mio canale Quindi Non la toglierò Però voglio cambiare Un paio di impostazioni Un paio di cose Riguardo A quella serie E poi ne parleremo Ne parlerò meglio In un episodio di Yu-Gi-Oh L'altra serie invece Che sta avendo Un po' di successo Non tantissimo Perché ovviamente È una serie Che fanno tipo tutti Sì ma io sto andando in giro Voglio le pecore In ogni caso E in più voglio anche Un po' di alber Visto che sono qua Quasi quasi Che ha avuto Parecchio successo È stato Clash of Clans La sfida di Clash of Clans Che all'inizio Ha avuto successo Fai questo Fai quell'altro Però sicuramente È calata un po' Dal fatto che Magari le sfide Sono sempre le stesse Non è che Arriva uno E ti dice Fai questo qua Le sfide sono Usa questo Usa quell'altro Quindi porterò Qualche sfida Particolare Da solo Poi se riprendo Un po' Il fuoco di questa serie Porterò comunque La serie Questa qua è una Delle serie Che va anche di più Quindi Non è male La porterò Ovviamente È lo stesso problema Di Yu-Gi-Oh Che Essendo registrato Ai pad Di mettergli L'immagine Sei una pecora No è un coniglio Mi ha fatto venire un colpo Primo E poi muori Perché sei un coniglio Così perché Volevo uccidere un coniglio No scherzo In poche parole Volevo Mi ha fatto venire un colpo Stato schifoso Però abbiamo degli Arboscelli Che non è male Non è male Ed è una serie Particolare anche questa Per il semplice motivo Che Essendo registrata Dall'ipad Ci metto mezz'ora Diciamo che Essendo più corta Ci metto meno Però Sempre il doppio Della lunghezza Del video Ci metto Se io renderizzo Un video da 6 minuti Ci mette 12 minuti Per renderizzarmelo Per il semplice motivo Che il mio computer Non riesce a Diciamo che è la mia scheda video Che devo cambiare Assolutamente È da tipo 8 anni Che devo cambiare La scheda video Però 8 anni Senso figurativo Ma io sono un coglione Perché Vabbè Posso rifarmelo Per fortuna E Che ora è Aspetta 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 Sta avvenendo notte Non so Non so Perché Se viene notte Il problema È che I mostri Mi uccidano Però io voglio le pecore Quindi Quasi quasi Facciamo un'esplorazione Tutta filata E per la notte Mi fermo In un In un buco Come abbiamo fatto La prima notte È l'unico È l'unico modo Io devo cercare le pecore Appena trovo le pecore Abbiamo vinto Proprio Vinto Ok Ok Continuando il discorso di prima Perché se no mi perdo Voglio dire che Queste due serie Stanno andando bene Se avete sfide Di Gash of France Da consigliarmi Iscrivetemelo qua sotto Tranquillamente Qua devo ancora risolvere Il problema del bug Del fiore Che compare Quando spacchiamo Le piante Vabbè E Che figata L'amplified Guardate che fighe Le cose volanti Guardate che cosa Assurda laggiù Si sta ancora caricando Perché ovviamente Sto registrando Quindi carica Abbastanza lentamente Però è Fighissimo Ma veramente Fighissimo Quasi quasi mi trasferisco Qua Tanto la casa Ho una fornace Una crafting table Massimo Tutte le robe ce l'ho qua E il campetto di grano Ma fotte sega Proprio Ma è bellissimo Qui Si si Mi trasferisco qui Mi faccio una bella casetta Come Normalissima Una normale casetta Normale E Il prossimo episodio Andiamo in miniera Sicuro Perché questo qua Volevo andare a esplorare Trovarle pecore Ma non ce ne sono Porca puttana Non ci sono pecore Mucche a volontà Ma pecora Manco una Porca Vacca Ci sarà una pecora Da qualche parte Ma che figo questo Il fiumiciatolo Che esce Così dalla montagna Bellissimo Oh Si era dato Gesù Cristo Insomma Quante Mucche di merda Qua cade In un precipizio enorme Quindi Però sta pecora Non voglio ucciderti Vediamo se riesco a trovare Qualche po' di ferro Qua sotto Fermi Fermi Tutti C'è del ferro Veloce Da raccogliere Si 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 Prima che venga Notte Mi arrivano Tutti i mostri Mi sta arrivando Già Uno zombo Prendi il ferro Prendi il ferro Prendi il ferro Questo serve Piuttosto di farmi La spada O qualcosa di ferro Che lo facciamo Nel prossimo episodio Mi faccio Poi qua c'è altro ferro Quindi Mi faccio le shears Così posso prendere la lana Dalla fantastica Fantastica pecora E quindi Molto bene Insomma Comunque Quello che volevo dirvi È essenzialmente Questo Che Come canale Ultimamente Sta andando bene Vedo anche Un incremento Ciao zombie Fermo che io sono Il hardcore Ricordo tutti Io ricordo sempre Perché Perché si Ma cazzo Una 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 Un Urca Puttana Aia Fanculo Troione No c'è lo scheletro qua Vieni qua Scheletro Adesso che è girato Muori 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 Cazzo Tre colpi Ti davo prima Adesso Stanto due Comunque Torce Subito Subito Torce E ci chiudiamo Dentro sta casetta Insussa qua Torce 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 E Ci chiudiamo qua dentro E poi vado a Perfetto Wow quanto ferro Buona Buona questa Oh porca Puttana Chiudiamo Lo so che non potrebbe venire nessuno Realmente Però Chiudiamo lo stesso Non si sa mai Qua Ok c'è del ferro Ok Mettiamo torce ovunque Non voglio mostri Di nessun genere Tipo Nazione Colorati Verdi Gialli Blu Ok Chiudiamo anche Qui Qua un mostro Può passare No Però non si sa mai E chiudiamo anche qua sotto C'è la pecora Però io volevo andare a prendere la pecora E adesso sono in un Vabbè Chi se ne in cula Comunque Visto che siamo già a 14 minuti Chiudiamo qui Allora mi sistemo qua per la notte E poi nel prossimo episodio Col giorno Andiamo a prendere la lana della pecora Sperando di prenderne tre Mai Non sono mai riuscito a fare La lana con le pecore Tre Al primo colpo Quindi sicuramente me ne darà una Sta stronza In ogni caso mi faccio anche Una cest Una piccola cestina Buttiamo dentro Tut No non ce l'ha di mentre Io sono abituato a giocare Con le mod Tantissimo Quindi Io tenterò in tutti i modi Di Di trovare il copper In questo mondo Ma non ci sarà Continuiamo nel prossimo episodio Si sta facendo Tami Quindi da DJ È tutto Vi ricordo di lasciare un bel Vi piacere la serie Se volete continuare Naturalmente Iscrivete al canale Da DJ Lino In questo mondo